yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui per la prima volta con shogunate tgc con tutto il tipo con un membro del team diciamo meglio per fare una tier list sui migliori mazzi rogue t2 che ci sono in questo momento per poter giocare nel pratico ovviamente con un budget ridotto perché spende un sacco di soldi per un mazzo che nel pratico non è neanche meta è come sparassi sui coglioni si io non va a convenire troppo alla fine con poco comunque i risultati li vai ad ottenere quindi oggi andiamo a vedere quelli io ci sono già passato quindi ragazzi non fatelo assolutamente se non vale la pena non ce li buttate decisamente decisamente che è già un hobby costoso di suo quindi direi che più investite meglio i vostri soldi più vi divertite più ottenete risultati e va tutto come deve piano b è andata a troie sì sì praticamente costa di meno vi divertite di più vincete praticamente quasi sempre almeno non dovete stare a tirare i dati per deciderlo prima di tutto vi ricordo come sempre che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da card gaming corner il mio sponsor trovate il link del loro store qua sotto in descrizione e con il codice sconto 2023 cappello potete ottenere il 10 per cento di sconto su carte singole e prodotto sigillato ovviamente non potete comprare sleeve e deck box e tutto il resto perché il codice non copre quella roba visto che me l'hanno chiesto e meno per essere chiari giusto puntualizzare sempre almeno si leva tutti i dubbi e anche la si perde meno tempo inoltre se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon one piece force will o digimon o se volete trovare un lavoro mi serve della mano d'opera per sistemare guarda quanto ti capisco anche scappa già ricevuto un ordine di quelli guarda gli servono quattro mani guarda c'ho praticamente un dipendente che sta lavorando in questo momento sopra il mio letto a faccia mentre per le carte c'è instagram qua sotto in descrizione contattatemi mandatemi la foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo io partirei subito con la tier list allora io ho fatto queste sei categorie il cesta che mazzo buono nel pratico costa poco performa bene e conviene montare poi il cesta abbastanza ma non troppo un po' naglia di mezzo si gli manca qualcosa il se salva che diciamo è lì lì per non essere proprio totalmente immondizia ok il me che no non va bene e il se dovete giocare sto mazzo perché siete poveri allora andate a giocare a pauver poi vabbè il fuori il fuori budget è quello che non conviene sotto nessun punto di vista no esatto cioè che costa veramente magari è forte però c'è se costa 300 euro meglio lasciare perdere allora detto questo io partirei subito che non vorrei vorrei fare un video umano visto che sono già cinque minuti di intro allora partiamo dragon maid da espansione costa troppo perché tutto secret da gold da 5 euro che costava ne costa 100 io andrei subito sul fuori budget sì 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 belline per carità ci sono altri mazzi waifu quindi purtroppo loro vanno via giochi sky spendi meno sì praticamente spendi la metà e performa il doppio esatto esatto è sicuro poi matt mech matt mech è matt mech a dire la verità secondo me è un buon c'è sta abbastanza ma non troppo dici io lo metterei sul proprio c'è sta perché nel pratico costa poco performa bene l'unica cosa forse con gli minister un po più forte però diciamo che forse stiamo ancora nel budget ma io infatti quasi quasi perché vedo comunque che ci sono gli minister di sotto li andrei addirittura a mettere insieme perché comunque c'è super factorial che sta ancora un pochino e la senate mining pure c'è comunque access però alla fine se vai stai comunque penso sotto i 100 o comunque poco sopra quindi dai alla fine un bel ci sta ci può stare io metterei matt mech c'è sta in easter c'è sta ma non troppo secondo me matt mech è un pochino più forte anche messi insieme il reparto è più forte quello matt mech va bene dai va bene va bene va bene diciamo che calcolati come unica entità così si può dividere bene poi abbiamo infernoide che sono usciti su cioè che hanno annunciato i supporti ultimamente e sono saliti di prezzo le carte quindi questo me l'ero perso perché non ho controllato i prezzi dopo l'uscita di supporti che mi sembrano anche piuttosto validi sì io ho visto il link che non è assolutamente male quindi io uno è un buon boss monster sì 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 decisamente adesso lo metterei sul se salva perché hanno annunciato i supporti con la possibilità di salire sì sì sono completamente d'accordo cioè per ora è me però con i supporti se salva e ne abbiamo altri due di archetipi forse o almeno uno che già vedo che farà avrà lo stesso discorso di infernobili quindi ci sta non ce l'ho presente poi vediamo allora sì sì ci arriviamo ci arriviamo abbiamo ho dimenticato il nome prank kids i ragazzi biricchini io andrei su se dovete giocare sto mazzo e andate a giocare a pauper sì ma secondo me sì 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 beh la categoria più bassa quindi sì decisamente anche se costa poco non fa niente senza i brave ma quel punto va sopra e quindi purtroppo ha fatto quello che doveva fare adesso basta direi lo lasciamo in pace sì sì sono completamente d'accordo poi preda plant preda plant è un buon mazzo con l'engine bread comunque costa poco secondo me ci può stare ci può stare è simpatico quindi dove lo mettiamo sul se salva o possiamo farlo salire o scendere sto pensando alle altre varianti secondo me tra le varianti tra le varie varianti branded che non sono despe ovviamente potrebbe risultare la migliore quindi lo preferisco anche ad eldrich branded quindi secondo me c'è sta abbastanza dimmi te se sei d'accordo c'è sta abbastanza ma non troppo sì sì c'è sta abbastanza ma non troppo sì va bene chiaro 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 poi blunder allora è uscito il supporto nuovo è carino sì ma secondo me gli serve qualcos'altro di extra allora più che di extra il problema qua c'è proprio il problema di base è che senza i brave token purtroppo ah vabbè veramente poco quindi secondo me o me o se dovete giocare sto mazzo andate a giocare a pauper dai perché di base è buono però servono i brave che costicchiano ancora io metterei poi quando annunceranno le ristampe salirà per ora però secondo me non può io andrei su me perché cioè su se dovete giocare sto mazzo è proprio la merda della merda ah è ok almeno questo con i brave si salva allora sì me secondo me va bene e pk phantom night phantom night lo possiamo anche andare a mettere insieme a burning abyss forse perché alla fine si sono sempre giocati insieme sono mazzi che vabbè da soli purtroppo fanno poco ma con questi engine fanno molto molto di più io metterei tutti e due su me sì stavo letteralmente per dire la stessa cosa purtroppo sono mazzi vecchi che non hanno ricevuto supporti e vediamo vediamo se magari escono con questa nuova cosa è due link nexus magari o li buttano qua dentro anzi ci fanno felici nuova meccanica e supportino perché diciamo che l'ultimo è cherubino e diciamo da cherubino era il 2020 la ristampa di cherubino quindi 2019 esatto e che tra l'altro si è alzato di brutto quindi insomma nuova meccanica mi auguro di no ancora per ora mi va bene il formato così com'è ma i supporti sì i supporti mi piacerebbero parecchio poi abbiamo il mazzo delle lavatrici appli answer sì io qua metterei sul se devo giocare sto mazzo mi do power anche se è 5 euro di mazzo forse lo metterei pure sopra prankitz sì perché almeno ha un senso cioè diciamo che almeno non gli hanno tagliato le gambe bene o male c'ha tutto completo quindi ha senso poi abbiamo fluffal e fluffal è un altro me mazzo buono chimer è stato un ottimo supporto ma gli manca sempre qualcosa di extra sì esatto non ha un handboard è un going second però se va di primo purtroppo mette veramente poco anche là con l'engine branded fa qualcosina però appunto tra quelli secondo me è il peggiore sì poi abbiamo anche blackwing blackwing secondo me con i supporti di double ha avuto una bella spinta penso più di così non possa raggiungere però no perché comunque gioca di extra carte costosine quindi vabbè è un buon combo ah no c'hai ragione cazzo maestro armatura maestro all'armata mi sembra vabbè con l'ultra sì sì armatura completa costa 20 euro sì 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 ho visto che quelle da double cioè l'uccello costa 6 euro quindi io metterei fuori budget però nel senso se dovessi classificarlo secondo me c'è sta abbastanza ma non troppo sì no forse si salva diciamo che più cioè nel senso è fuori budget sì ma per quello che spendi comunque ti dà i risultati però sì per quello che è il nostro obiettivo oggi purtroppo temo sia leggermente fuori budget sì sì poi abbiamo ddd oddio ddd aveva ricevuto dei supporti buoni sia di extra che di main che l'hanno reso veramente buono però poi è complicatissimo sì è veramente complicato hanno ristampato tutto c'è da dire se vi piace un pendulum secondo me si può salvare sì però punterei su altro a dire la verità sicuramente c'è molto di meglio da giocare però è budget funziona quindi ai fini della nostra tier list ci può stare funziona pure esatto esatto poi abbiamo spellbook che ha avuto fatto reprintato quindi si è abbastato di prezzo esatto quindi a dire la verità non è male un control stun si salva perché do mettere un pochino facciamo un favore ai nostalgici no dai sì mettiamole in me senza nessene ma ma in me poi vabbè questo già io lo so fuori budget senza ma sì sì solo calcolando che devi prendere du zeus perché uno te lo fanno fuori di sicuro sì è decisamente fuori budget solo zeus secret sta a 40 esattamente esattamente poi cydra cyber dragon secondo me con le clockwork allora di base costa niente se vuoi fare l'upgrade con le clockwork che già lo va a rendere molto molto meglio costano 7 luna controllato prima secondo me comunque non è tanto considerato che il resto lo paghi veramente poco dato che hanno ristampato tutto secondo me c'è il budget necessario pure per andarci a infilare un tirion regolus sto che sono 40 euro ma se tutto il resto lo paghi 10 secondo me potrebbe rientrare no no perché il cyber dragon quello da structure il 5 poi c'è infinity diciamo che un po' il prezzo sale però secondo me siamo ancora sul budget e con le clockwork clockwork si può salvare dai dai va bene sono d'accordo qua sono d'accordo poi vabbè abc secondo me c'è sta ma non troppo perché gli serve un ethereum allora sì però secondo me di base non fa nemmeno troppissimo quindi sul se salva non può farti una board che ti può fare un ignister oppure un pre da plant secondo me ok quindi se salva il se salva è il me secondo me è proprio me sai perché allora il migliore dei me board sì dai possiamo metterlo come un me alto esatto via fuori warrocks subito subito no fuori budget no no se dovete giocare questo mazzo fuori dalla fuori dalla tier list quasi no purtroppo non mi ha fatto niente poi abbiamo ninja ninja secondo me è il migliore dei cestà sì 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 assolutamente costa ancora meno di traptrix e secondo me no mi sa che traptrix è un pochino più forte però costa tipo la metà questo sì 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 esatto questo qua costa pochissimo prendi tutto da buste ma cioè veramente ridicolo quanto costi poco infatti guarda te lo dico me lo sono fatto con 14 euro adesso spendi un pochino di più adesso costa un po' di più perché le mizu si sono alzate io l'ho presa a 20 centesimi l'uno ci ho visto lungo e vabbè che ci potete fare però sì comunque costa ancora poco e comunque è molto divertente e contro cash tira tra l'altro c'ha pure un ottimo match up quindi mi piace mi piace un sacco infatti porteremo pure una bella decklist appena ci abbiamo del tempo quindi molto bene molto bene allora abbiamo messo spiral e anche spiral io direi gioca a power sì tanto vabbè giocatelo su master duel e non lì performa bene vabbè questo appunto per quello per quello dico giocatelo lì che almeno fa qualcosa c'ha le carte giuste thunder dragon belli gli artwork fine fine della review secondo me poi naturia senza runic però naturia pura secondo me c'è può c'è stà anche secondo me purtroppo con pochi shizu ha perso tanto però mazzarderi quasi un c'è stà abbastanza ma non troppo dato l'hit che ha subito sai però lo metterei più in alto degli altri due dai il migliore dei c'è stà sì dei c'è stà abbastanza dai mi piace mi piace allora poi abbiamo adamantia 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 oh non so in che stato sia non lo vedo giocato da veramente tantissimo però secondo me anche a livelli di prezzi non lo so a livello di prezzi siamo ancora nel budget ma secondo me è un me e basta e allora sì dai ragazzi se c'è qualcuno che se ne intende di più può andare a fare in culo sinceramente non me ne frega niente stavo per dire scrivetelo qua sotto però vado andate a fare in culo va benissimo anche così no qualcuno che se lamenterà c'è sicuramente quindi vabbè quello sì oggi cappello si è svegliato ha scelto la guerra completa a quanto pare però ci piace ci piace un po' spicy poi abbiamo ma dolce che anche questo l'ho visto con gli shizu che performava bene però performare bene secondo me performare beh sì purtroppo non c'ha ne handboard credo quindi vabbè purtroppo lo lasciamo di dove tanto il se salva il me è praticamente la stessa cosa sì forse è un po' a gusto nostro diciamo che i se salva almeno c'hanno un obiettivo finale in board che comunque può fare qualcosa cioè alla fine se DDD ti mette la board sì ce le ha le sue belle interruption quindi dai poi sì ovviamente va anche a gusto nostro ed è lì che dico sucate se volete fatevi la vostra tier list sì su questo sono abbastanza d'accordo meno male meno male poi abbiamo live twin live twin live twin puro secondo me è carino secondo me si può salvare è che mi sa che costicchia leggermente hanno reprintato tutte le robe di extra quindi le paghi 70 centesimi l'una allora secondo me si può salvare sai non so bene se può andare a cesta abbastanza però secondo me ha bisogno ovviamente di sprite o comunque di altro quindi si salva però si salva alto secondo me solo perché sprite c'è prova dai una mano esatto esatto drytron che hanno annunciato i supporti ed esatto era quello che mi riferivo sono più supporti ursa arctic però sì alla fine vale pure drytron drytron a dire la verità secondo me sai che potrebbe essere un cesta perché comunque cos'è che costa di drytron lenova e il resto forse un cesta abbastanza ma non troppo solo per il prezzo perché comunque l'handboard non la butti giù se ti fa un handboard come si deve come l'auti è molto difficile da utare poi adesso di nuovo bentenna 3 se non sbaglio bentenna 3 mi pare di sì sai mi pare di sì che l'avevano rimessa sì e quindi in automatico sale sì dai secondo me là ci sta poi darkward darkward o cesta o cesta abbastanza cesta è supporto nuovo è troppo forte sì 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 lo structure gli ha dato un'impennata assurda sia a livello di power level che di prezzo e adesso non c'è più tier quindi secondo me è il suo momento giusto per poter dire la sua e lo fa veramente in maniera buona al massimo cesta abbastanza ma non troppo perché comunque ninja te lo fa anche nella top darkward sì più che altro darkward è molto difficile da usare ci devi stare tanto 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 appresso quindi sì dai facciamoci questa abbastanza ma non troppo per lo skill gap per lo skill ceiling dai poi altergeist altergeist allora teoricamente se dovete giocare sto mazzo andate a giocare a power perché è un cancro allora quello sì però comunque nell'ottica del non ci sono tanti contro il budget da quel punto di vista secondo me merita un cesta abbastanza ma non troppo sto d'accordo perché se vuoi giocare questo tipo di playstyle questo è un mazzo che ti puoi fare con poco quindi se lo merita sì 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 Iro anche lui ha ricevuto supporti ne riceve sempre ne riceverà sempre questo ormai l'abbiamo capito costa chiedo a te liquid una decina d'euro è qualcosa è un forzer dei destiny fusion però dovremmo essere ancora nel budget proprio al limite ovviamente ok secondo me ci può stare abbastanza perché comunque c'ha dei boss monster molto molto buoni tipo dark claw che se li cali insieme a Phoenix Enforcer un qualcos'altro a fianco può dare molto fastidio però effettivamente perderà tante cose che adesso girano nel meta quindi forse mettere i si salva ok comunque i venni palle di rago olem cazzi mazzi secondo me lo vanno a penalizzare molto quindi poi abbiamo dogmatica secondo me è fuori budget perché nadir costa un sacco dogmatica costa un sacco sì purtroppo anche in versione rituale puro senza nient'altro di troppo esoso è fuori per quanto io ami ecclesia e tutta la lore sì purtroppo va lì poi abbiamo Swartzol secondo me ci sta perché costa poco e il mazzo performa bene soprattutto con i supporti e se non sbaglio ne deve ricevere ancora sì deve ricevere una quick spell o una spell normale che vabbè onestamente non penso vedrà gioco e poi tipo però alla fine hanno ristampato tutto baronessa puoi anche evitare di giocarla addirittura sta a 50 euro adesso chi non la compra no anche a 40 mi pare di averla vista e l'ho pagata 45 ah vabbè vedi una via di mezzo però sì è secondo me il miglior qualità prezzo cioè anche meglio di ninja perché questo ti fa dei risultati assurdi poi ricca che adesso è budget prima non lo era sì e secondo me anche questo è un cestà sì perché con i suonavalon c'ha il suo perché sì 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 assolutamente fortissimo cioè ti cala con con ma boh cioè fa tutto quello che vuole quindi sbroccato e tra l'altro anche di questo abbiamo già il deck pronto quindi let's go let's go cazzo si sta facendo una pubblicità incredibile vabbè eh vabbè ma è qua uno scambio di favori quindi assolutamente allora andiamo con Eldlitch è un me secondo me se salva se salva perché se può beccare Evely spolverino eh quello è vero però abbiamo messo Altergeist su che si becca più o meno le stesse cose allora abbassiamo Altergeist e mettiamo o li mettiamo entrambi in se salva sì cioè abbiamo messo Cyber Dragon in se salva nel senso dai dai va bene va bene così va bene così poi Flanders secondo me ci sta perché sì è budget è budget fa il suo semplice spendi tipo 70 euro e comunque i local li vince tranquillamente sì 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 esatto anche senza la statua comunque fa il suo quindi poi mi pare che abbiano messo delle tech nuove come i C, Morgro, Buccelli non mi interessa nemmeno però si sono adattati quindi dai un bel ci sta mi piace poi vabbè questo senza parlarne andiamo qua eh sì costicchia costicchia leggermente no no io ho altri problemi con lui però sì a me piace ti dirò però è fuori budget quindi di base va bene lì dove l'hai messo dai poi abbiamo questo non ricordo come si chiama Gold Pride Gold Pride non è manco un mazzo sono da mettere quei punk sì eccoli abbiamo pure i punk secondo me sul c'è sta abbastanza ma non troppo perché comunque costa è un po' fuori budget tutte e due insieme è tanto fuori budget eh no però è forte con i Brave anche no vabbè anche senza Brave è un sacco fuori budget perché comunque c'è Psychic and Punisher Foxy ancora sta sui 20-30 euro l'uno no basta non c'è bisogno di è un ottimo mazzo molto bello da giocare ma è fuori budget sì 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 decisamente poi Dino lo metterei in me ma guarda Dino io in vista del futuro ci spaccherei un ci sta grande quanto una casa o ci sta abbastanza ma non troppo ci sta abbastanza ma non troppo solo perché hanno annunciato i supporti dai sì sì solo perché hanno annunciato i supporti le ristampe quindi tutto quello che costa meno qua adesso costarà ancora meno diventerà ancora più forte mi piace un sacco Dino quindi va bene sulla fiducia esatto poi insisto mi impunto va bene poi abbiamo Branded Branded Espia e secondo me Branded Espia ci sta abbastanza ma non troppo allora se lo calcoliamo come Branded secondo me ci sta fine se lo calcoliamo anche come Despia forse inizia ad uscire dal budget dici comunque devi giocare Guardia della Chimera devi giocare due Draghi nuovi che stanno su una quindicina l'uno però secondo me sui 100 euro ci stiamo comunque dici che ci rientriamo no perché tre di lui costano 30 euro sono saliti sono saliti secondo me purtroppo appunto come Despia Branded fuori budget come engine ci sta di brutto mettiamo fuori budget ma aveva il suo potenziale se lo esatto esatto cioè io lo considero come era a settembre senza Bistial sì 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 no no esatto esatto senza Bistial anche perché adesso non si giocano più quindi anche senza purtroppo secondo me rimane fuori però appunto ottimo ottimo engine poi abbiamo Tribri che lo vogliamo mettere su se salva perché fa una board buona ma muore da Dark Ruler sì allora perderà qualsiasi cosa io l'avrei messo addirittura lo metterei in se salva perché è un buon engine con sprite con scare è splashabile sì gli darei quello come piccolo plus però come mazzo pure me poi abbiamo Infermity vabbè ha avuto un supporto incredibile però sì il supporto è incredibile nell'ottica di sei anni fa però sì sì no peccato che c'è un propulsore solo se ce ne avessi tre se ne riparlerebbe ma io lo metterei su me perché cioè è un pochino sopra le altre dai c'è anche tre barrier non lo so perché comunque almeno da un video che ho visto è fare tre volte trisciula e bruciare le robe che c'ha l'avversario a me personalmente non piace però ti accetto il me dai dato che abbiamo messo di lui in alto lui secondo me appara appara entrambe le cose no ma perché sennò ho degli amici che mi penso appena mi vedono mi tagliano la giugolare allora per la tua incolumità va benissimo in me poi abbiamo questa che si che è marinsus marinsus ma secondo me si può pure salvare si 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 a voglia sta pure facendo delle toppine in giro se non mi sbaglio davvero io non ho visto niente più che altro secondo me un buon si salva perché non so i prezzi ma hanno ristampato tutto quindi forse a zardera non c'è sta abbastanza ma non troppo sai ok va bene perché quello che fa è un buon combo è un buon combo cioè io perché non l'ho mai giocato ho visto solo qualcosa quindi mi sfide quello che mi dici te si no no dovrebbe starci poi appunto si lureranno me nei commenti quindi ne prendo prenderò io le sassate tranquillo poi sky sky è sempre buono sky c'è sta che gli devi dire è budget è forte è praticamente quasi meta quindi so pure carine è quello fa e lì è il posto che si merita soprattutto il sono carine sottolineato tre volte sono carine sono carine sono vabbè finiamola se andremo avanti all'infinito e poi questo era e mi sfugge il nome sprigans sprigans e a me me l'hanno giocato con no era sprigans puro mi sembra ci ho preso il cazzo sì ma anche perché ci hanno aggiunto hanno annunciato un nuovo supporto taglio che non è niente male secondo me si salva ma secondo me poi c'è pure sargas con la possibilità di salire anche sì perché se tu ci metti un po' di budget diventa veramente un buon deck quindi è proprio è proprio lì lì tra il se salva il c'è sta abbastanza ma non troppo e vabbè poi queste le bambine più belle del mondo mi dissento perché esiste esiste l'abri quindi sono quelle le due bambine più belle del mondo io smettere di parlare di bambine comunque Toon World allora visto che parliamo proprio di bambini ecco il mazzo Toon esatto vabbè Toon World è andata a giocare altro e tra l'altro trovatevi per un lavoro perché è pure fuori budget secondo me comunque io l'ho fatto anche fuori budget montandolo con i ferrier e con gli unicorn chad chaddissimo io mi inchino a questo punto madonna sì sì no era era proprio la versione da Ricky mamma mia la versione la no no non facciamo citazioni allora Exorcister non è il meta suo no ma non è mai il meta suo purtroppo il meta scorso era il suo cavolo sì però si è vista comunque poco purtroppo perde da tanto è bello però è bello ci arrivava a essere no non a essere meta però a combattere con i meta e fa qualche topo sì era un anti meta quello è vero quello è assolutamente vero ha bisogno del suo meta secondo me si salva si salva solo perché dipende dal meta che c'è in giro sì esatto e poi costicchia ancora anzi senza il costicchia ma costa purtroppo c'era già fuori budget quindi sì siluriamolo almeno 150 euro costa quindi purtroppo sì per quanto siano belle costano e qua ci abbiamo gli squali gli squali gli squali ma te dirò secondo me si salva è budget fa la sua handboard dici il suo bamut shark lo tira la sua toda l'ipure sì ti fa ti fa come si chiama il dragon furtivo ti flippa gozzene lui vince il suo match quindi secondo me infame ma ci sta poi abbiamo salamangreit che secondo me anche questo se salva ogni tanto scappa quando è il suo meta sì sì diciamo c'è qualcuno che è rimasto nel 2000 ed 18 forse pure prima va bene dai ci sta no dai mettiamolo in me sto cercando di venderlo a 35 euro però guarda ragazzi fammo così su se salva solo perché lo deve vendere a 35 euro esatto esatto non lo sponsorizziamo poi che c'è virtual ma io andrei su me solo perché l'ultimo supporto che deve uscire fa veramente schifo è veramente inutile purtroppo avrebbero potuto tirare fuori un supporto molto carino e farlo tornare e hanno deciso di no chissà magari vuol dire che non usciranno altri non lo so cioè per fare polemica e per far capire alla konami che il mio malcontento lo metto su andate a gioca a power mandiamo un messaggio forte alla konami e poi alla fine gremmaggio gremmaggio io lo metterò in cestà solo perché quando me lo becco ai local il duello dura 5 minuti ai otk si ok andiamo a game 2 riesce a otk ah di ciao riesce a otk armi no a posto cioè bellissimo da trovare contro però purtroppo è me secondo me è me perché a far otk è bravo fine ma io metterei anche sul se dovessi giocare sto mazzo dateva a power parliamone forse il migliore di questa serie dai mettiamo il migliore solo perché nel resto della tier non c'è un mazzo che fa otk e questo lo fa quindi è unico nel suo genere diciamo comunque io vorrei aggiungere un mazzo ma se mettiamo un antometa qua dentro dove lo mettiamo o è direttamente nella classifica del meta oddio mi stai facendo mi prende alla sprovvista io direi fuori budget perché i prezzi c'è ragione purtroppo da quello che ho sentito i prezzi non sono accessibili non sono mazzi performanti quindi io metterei proprio una categoria a parte quasi ma mando un altro ma stavolta sono io a mandare un messaggio un messaggio molto molto forte ecco mettiamo pure il punto esclamativo esatto non ce l'abbiamo qua però è sempre con noi detto questo abbiamo finito secondo me come minimo perché ho visto i commenti di altri tier list fatte da Luca Gaming Tonight pieno di insulti so convinto che anche qua non si risparmieranno ma nel caso non li blocco li insulto a mia volta quindi ragazzi se volete far polemica è il momento giusto perché sono proprio dei cattivi umori quindi sfogatevi dite la vostra mettete like comunque perché sì almeno così altra gente viene perché ci sono interazioni e si litiga tutti insieme bene detto questo prossimamente tipo tra una settimana due non lo so dovrebbe uscire un altro video sul canale di Shogunate TGC dove andremo a parlare dei mazzi più forti di questo meta io non sono assolutamente competente su questo argomento quindi nel caso fatevelo andare bene comunque da collatevelo insomma quello è e quello vi beccate però sì sarà un video abbastanza interessante il contrario di questo qua abbiamo speso poco abbiamo avuto buoni risultati di là invece andiamo a spendere tanto però andiamo a prendere le top quindi abbiamo quattro mazzi da inventare nella terra sì praticamente se il video durerà tre minuti contati però che video ragazzi che video detto questo ragazzi state meisi e noi ci rivediamo domani forse sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao ragazzi